un saluto a tutti quanti voi che vi trovate dall'altra parte allora io sono quasi due mesi che non registro video e dopo che passa un certo tot di tempo sinceramente non riesco neanche più ad attaccare bene con l'inizio del video infatti questa penso è la centesima volta che faccio questo attacco quindi io cerco di essere più spontanea possibile allora io volevo innanzitutto ringraziarvi perché il canale nonostante la mia assenza è cresciuto e perché continuano appunto arrivarmi i commenti sotto i vari video io cerco di rispondervi sempre in tempo ma non ci riesco sempre però insomma ecco mi ho risposto e niente vedi che ogni tanto mi perdo ma è così e quindi era per dirvi che vi ringrazio perché sento che ci siete e questa manina ogni tanto che zampilla diventa sfogata e va bene così poi volevo dirvi perché faccio questo video ho urlato eh vabbè faccio questo video perché ieri è stato il mio compleanno sì sono arrivata all'età di cristo quindi ehm ecco eh 33 anni e e quindi eh ho fatto una pazzia ho fatto una pazzia sono andata a Torino con mia sorella eh perché lì a Torino precisamente a Rivoli eh c'è un negozio che la maggior parte di voi magari eh conoscerete chi non lo conosce comunque lascio giù nell'info box il link alla alla sua pagina facebook e si chiama il negozio della mamma di Cle di Clelia una persona squisitissima insieme alla mamma dolcissima eh che appunto ci hanno accolte nel nel negozio di appunto tutte cosine scrappose che a noi piacciono tantissimo quindi sono andata lì ho fatto un po' di pazzia adesso vedete tanta roba ma insomma è un è un regalone cioè ehm regalo da parte di papà da parte di Sara eh di Laura eccetera eccetera delle mie sorelle quindi sono tante cose perché è un regalo un regalo cumulativo ecco diciamo così quindi io sinceramente non mi perdo in chiacchiere mettetevi comodi perché sono un bel po' di cosine allora vabbè della coppia creativa io mi sa che faccio un piccolo zoom ma giusto ecco nella coppia creativa ho comprato questa questa fustella con la scritta amica perché mi mancava poi ehm ho comprato della moda scrap eccola qui questo set di timbri che è bellissimo eh scusate riflessi ecco se tengo così va bene e dove ci sono tante frasette carine come vedete vabbè album poi ricordimi la bellissima da portare sempre nel cuore sogni progetti momenti mille avventure di ricordare i momenti più belli sempre l'avventura inizia da qui la vita è piena di momenti felici molto carino non lo sono appunto preso grazie sta qui ok basta è da un po' che non faccio video non ci so più abituata la vita è fatta di singoli momenti eh che creano grandi ricordi è bello perché io non leggo qui ma leggo allo schermo pensa come sto ehm poi ho comprato questo set piccolino che mia sorella dice ma che è un suorcio io ho detto beh sarei no non è un suorcio perché è è una foca poi dopo dopo mi sono accorta però che la foca non ha la coda quindi dovrebbe essere una lontra giusto una piccola lontrina è carino con la fustella integrata della lontrina del del bastoncino di zucchero non lo so l'ha visti talmente tanti perché sto realizzando il kit natalizio e tra poco ve lo farò vedere che non lo so non mi ricordano neanche più come si chiama allora poi ho preso questo che è bellissimo proprio bello bello ripeto i riflessi ci sono ma abbiate pazienza che se mi metto a scortare tutto questo video veramente dura troppo però questo mi piaceva poi ecco sempre della moda scrap ho preso questo qui relativo al compleanno e c'è scritto la persona più incredibile che conosco una piccola sorpresa tantissimi auguri per di compleanno il tuo compleanno molto carino poi questo invece è relativo al natale è tempo di famiglia ecco io vedo se si vede è tempo di famiglia amore regali e tempo di magia e tempo di natale credi nella magia del natale bellissimo ok poi ho comprato questa fustellina qui perché mi piaceva è piccola piccola che la sento piccina piccina però è carina no la fustellina del dell'ombrello molto carina con i cuoricini poi ho comprato questa fustella qui che io questa la scratto no perché c'ho un po di curiosità nel capire se effettivamente l'avevo capita esatto sì sì l'avevo capita bene certo cioè nel senso che è taglia al centro del foglio e fa queste queste farfalle traforate qui non è bella bellissimo a me piace tantissimo poi sarà che a me piacciono le farfalle e questa cosa mi incuriosiva molto ok basta prometto che non tirerò fuori più niente poi ho preso mi mancavano della coppia creativa i quadrati no veramente mi manca anche qualche altra cosa però insomma i quadrati questi si chiamano ecco smerlati i quadrati smerlati e quindi l'ho preso perché ho i cerchi e i rettangoli ma i quadrati mi mancavano comunque per fare le card insomma qualsiasi cosa se vuole voglia fare sono sempre comodi e sono molto belli poi ho comprato questo questa combo sempre delle di timbri e fustelle della my favorite things ogni volta che dico questo nome mi sembro scema ma non solo quando dico questo nome allora questi sono i timbri ma guardate quanto sono piccini piccirini piccirini perché questi sono orsacchiotti che vanno bene sempre nel senso ecco c'è quello natalizio c'è quello quando piove c'è quello quando piove invece dell'ombrello c'è la foglia sopra magari non lo so sta sperduto in un'isola tropicale poi c'è quello che c'ha freddo c'è quello che col pacchettino c'è quello col miele che mangia il muffin insomma vanno bene per qualsiasi diciamo occasione quindi con relative e relative ovviamente frasette che fanno comodo e con appunto i timbri eh sì i timbri vabbè le fustelle abbiate pazienza poi ho comprato questi 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 timbri che realizza proprio la chlelia e sono i timbri che lei ha fatto non so di preciso quando ma insomma ovviamente sono antecedenti a quelli che ha realizzato per natale che sono anche quelli molto belli ma io ho preferito prendere questi qui perché mi sono fatta tradurre tutti i significati di queste frasi che a senso ci arrivavo però sai siccome non è allora dico me le traduci sono bellissime sono bellissimi e appunto le ho presi con tanto piacere e amore ecco e questi sono le cose di fustelle e di timbri ok ok adesso passiamo ad altra robetta nel senso che ma partiamo da questa cosa qui intanto si è sfogato però io adesso c'ho un attimo ecco l'occhio non lo so avevo un'elefante che camminava allora queste cose no dici che so allora sono i tommy art brilli io vedi glitter bicolore extreme in gel e ad alta brillantezza e luminosità loro consistenza li rende particolarmente adatti per realizzare decorazioni a rilievo ok non continuateci acidi e made in italy praticamente sono dei è una pasta una sì una pasta glitterata che tu la spennelli come se non ci fosse un domani dovunque quindi sulla carta carta cartoncino anche il vetro e questi sono praticamente dei nuovi arrivi io però non ne ero a conoscenza perché io ho proprio voluto volutamente evitato la sua pagina questi ultimi quest'ultimo mese da quando ho deciso che ho preso il biglietto e che andavo lì da quando ho deciso che andavo lì e quindi ho preso il biglietto ho detto io non voglio vedere più niente delle sue novità perché mi voglio gustare tutto quando arrivo lì quindi non sapevo di questa cosa e sono cose bellissime lei qua me li ha fatti vedere proprio dal vivo e sono bellissimi queste si chiamano pepite di cioccolato se non sbaglio ed è bellissimo un marroncino cioccoloso anche se sembra grigio ma non lo è questo è oro e questo è argento credetemi è bellissimo e io io da gennaio ragazze cambierà tutto da gennaio cambierà tutto io tornerò sul su youtube perché io ho bisogno di fare video perché mi piace e farò appunto i miei soliti anche tutorial e poi farò i video chiacchierecci i video in cui c'è se ride c'è se scherza eccetera eccetera perché giusto così quindi mi diamo un attimo ricompattare le cose e va bene vabbè me so capite da sola comunque allora abbiamo detto come li usiamo questi li usiamo principalmente con gli stencil almeno io li ho concepiti così no e quindi ho preso questi stencil qui alcuni sempre di tommy art e poi uno mi sembra ecco vediamo subito questo che è colore rose del team ebbè bibirose life ci stava bello molto poi questo con i fiori che è piaciuto particolarmente a mia sorella quindi capito tu spennelli qui sopra togli e c'è tutto il glitteroso in questi spazietti che vanno a formare la fibra del del fiore vabbè ma insomma lo stanzi si sa come si usa però io ogni volta rimango affascinata poi ho preso questi tipo di stelline qui perché proprio le stelle stelle era finito lo stanzi la stelle stelle poi ho preso questo qua di natale vabbè perché è ovvio merry christmas il fiocco di neve il cervo l'arena che dir si voglia le stelline molto carino anche perché hanno veramente un prezzo comunque accessibilissimo e questo qui questi due motivi qui e io mi ha fatto vedere che aveva utilizzato questo sì l'argento mi sembra su questo motivo qui oddio che bello su una stella neanche mi ricordo bene però bellissimo 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 mi manca il pennello il pennello lo devo comprare e ve l'ho detto poi ve lo farò vedere vi ho detto che vanno bene sia sul cartoncino che sul vetro ok bene poi io che cosa ho preso beh allora vi ci leviamo subito le cose semplici ma poco interessanti come dire queste qui vabbè questo bloccatino di di acrilico perché avendo l'ondina è più comodo no se devi fare una timbrata così al volo ho preso queste qui di timorso quelle più piccole perché ho quelle grandi che sembra un'arma impropria ma sono cioè io le straconsiglio sono delle delle forbici ottime ottime ho ripreso la tombo la colla della tombo l'acqua glu è glu grazie glu è colla va beh insomma questa è colla qui della tombo che è proprio buona e poi ho preso questo biadesivo che ha uno spessore meno di mezzo mezzo centimetro e non so bene quanto è ma insomma meno di mezzo centimetro ed è sempre comodo poi ho preso tamponi allora vabbè ho ripreso il nero questo qui che serve sempre e poi ho preso questi che li volevo tanto tanto provare questi qui della iro arts questi ombre che hanno che fanno questo effetto appunto di sfumatura dal più chiaro al più scuro comunque fatta ecco come come vedete e poi li proviamo e li proviamo perché sono tanto bellini mi piacciono un sacco e ovviamente i colori sempre ecco viola rosa mi sono anche un po lungata questa volta con questo qui ma sono belli e poi che ho preso ho preso poi aspettate che cerco di allora ho preso questi in uvo che mi mancavano dice che so a parte sicuramente voi lo saprete ma io proprio era un attimo all'oscuro sono in uvo sono vedete dei glitter ok che questo non si apre tanto per farvi eccoli qua vedete la vedete quanto è piccini perché tu fai così e crei questa cucina di glitter che poi si solidifica e quindi rimane come una io c'ho un nome che adesso mi svolge vabbè e niente tanto non mi verrà mai adesso quindi una mezza sfera solida glitterata sulla carta ovunque tu voglia e sono veramente carini guardate che carino pure il tappetto di amato come sono comprato questo qui ovviamente ci che colore te sei comprata e che colore mi sono comprata guarda c'è tanto che ho comprato no vabbè questi due li ho pensati per un progetto futuro belli eh molto chiari molto freddi e poi questo viola e rosalilla rosalilla si ok molto bellini come colori poi ho preso poi due perforatori e questi qui questi qui perché io amo i perforatori ma poi sai che c'è che io mi mi maciullo è quello che c'è capito mi maciullo perché è lo stress no che poi ti porta a maciullarti vabbè ok ma io lo sapete che io faccio i video perché è come se io parlo delle amiche quindi per voi amiche amici sapete che è così con tutte le figure che faccio non importa io sono fatta così e questo è un perforatore che fa questo questo bordo ondulato vediamo vedete è carino cioè sono cose semplici che però poi guardate che ti valorizzano tanto una card o comunque una tag o qualsiasi cosa che fai e questo con le rose che fai non lo prendi e come fai guardate che carino qua non so se si vede però è bello è tanto traforato tanto bello niente è una cosa molto bella pesano una cifra questi sono sono molto belli sono ottimi questa marca ectus se si pronuncia così è veramente ottima e poi aspetta che poi sto andando pure abbastanza veloce ho comprato questi due timbri di impronte d'autore con queste scritte in italiano perché sono belli oggi è un bel sorriso per sorridere oggi è un bel giorno per sorridere dietro le nuvole c'è sempre il sole molto belli sono questi qua in legno fatti così belli 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 mi piacciono tantissimo questi capito su una card come dice la chalelia e ti risolvono una card ti risolvono una tag dai su su e poi ho preso questo qui questa è una polvere da polvere per imbossare da imbossing è rose gold della everiel è bellissima io non vedo l'ora di usarla ma sicuramente sarà chiusa questa no ah ok oddio ma che bella 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 perché l'aveva usata in un suo tutorial perché lei allora io vi avverto che lei crea dipendenza eh io vi avverto cioè andate e li rimanete perché proprio crea dipendenza fa questi video queste dirette in cui usa tutti i nuovi arrivi e tu rimani lì a bocca aperta puoi prendere ogni cosa che mostra dal singolo foglio di carta ed è una tragedia ok cioè per il portafoglio ovviamente poi che cosa ho preso ah aspettate ho preso questa bellissima fostella allora io l'avevo già vista e ovviamente io aspettavo il mio compleanno per fare questa pazzia con questa fostella hai risolto tutto cioè nel senso che magari per non so anche bomboniere chi le deve fare tante in serie è una cosa meravigliosa comodissima questa praticamente serve la la big shot plus un attimo eh questo ecco prendi come dice Clelia un foglio a quattro gioco è fatto ecco qua vedi fai una passata e la la scatolina è pronta e cioè ripete e poi è viola ma vogliamo mettere che è viola neanche a farla posso e quindi veramente bellissima e ce ne stavano altre ripeto ma belle anche la Sizzic le fa Sizzics ne fa però queste secondo me sono ancora più belle vabbè non ci riesco a metterla dentro comunque è questa qui la bauletto veramente bellissima piano piano comprerò un po' di altre molto piano magari aspetto al prossimo compiano no vabbè poi ho preso poi ho preso aspettate pausa tolgo tutto quanto vi faccio vedere le ultime tre cosine ok rieccomi e ho preso un po' di carte che io ovviamente vi faccio vedere vedete ovviamente vi faccio vedere così molto velocemente magari cioè levo lo zoom ok questa è l'ultima cosa che no la penultima cosa che vi farò vedere e praticamente e niente cioè ho preso queste card semplici cioè allora queste prime sono abbastanza semplici perché proprio mi piaceva avere anche proprio un semplice sfondo per appunto le card sempre questa i colori ovviamente sono sempre gli stessi ma vabbè e che devi fare ci hanno anche il dietro eh però ecco questo è un po' forte piaceva tanto a mia sorella ma però non ve le faccio vedere pure dietro se no veramente affittiamo domani anche perché è questa la parte che mi interessa mh ho preso queste due mh invernali queste con le scritte bella e poi ah ecco qua si vede tutto e ciao telecamera col braccio vabbè i softbox cioè si vede di tutto sì e niente vabbè che vi faccio vedere e non lo so se vede tutto se vede tutto se vede tutto ciao vi potete intravedere ehm con i capelli corti va bene ehm e niente è un ehm una carta il carton è un cartoncino basil oh pronto è un cartoncino basil in eh no forse non mi piace proprio vabbè in foil dorato bellissimo io ve lo straconsiglio io lo uso per frustellare qualsiasi cosa in particolare le scritte mi piace tantissimo e vengono delle cose meravigliose ed è bellissimo l'ho presi gli ho presi due ma oh li ho presi due e poi eh l'ho preso anche mhm opaco poi l'ho eh l'ho presi rosa rosa perché ovvio ecco cosa è un brandigine rosa e poi ho preso eh questo foglio di stickers qui della simple stories della collezione natalizia e eh delle carte sempre eh della simple stories appunto della collezione di natale e quindi eh anche perché come non prendere il pan di zenzero e il bastoncino di zucchero anche perché è proprio sono le i due temi portanti del kit di natale che presto vi farò vedere eh babbo natali e cerbiatti no renne mannaggia per me sono cerbiatti vabbè eh questo questa qui con le scritte molto con sfondo molto biscottoso eh con i fiori stelle di natale suppongo eh le rose le scritte eh altri babbi natale belle eh questa è una carta che avevo ce l'ho anche in rosa ed è bellissima eh qui inizia la parte con lily foil e questa è viola con appunto il foil è viola bella 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 poi eh pua dorati bellissima voilà voilà ole bella e poi cioè vogliamo parlare di questa carta? oddio quanto piace questa carta cioè è bellissima per me è bellissima con tutte ecco si spara flash però guardate quanto è bella questa con i pois rose gold bella e ne ho presi due però perché sono bellissime questo è questo effetto così io non lo so che cosa si vede è forse così dal ecco vedi perfetto argentato io non ecco ben capito però è molto bella e poi niente ho preso questi cartoncini che non mi ricordo di che marca sono sempre per le e niente oggi non ce la fa per le carte per fare le carte e questi cartoncini basil bianchi con la solita trama a rilievo che non so se si vede ma non si vedrà una massa forse qui dove ho il dito perché insomma cartoncini basi sono sempre una garanzia poi procedendo vi faccio vedere queste ultime due cosine che sono uno con questa stamp platform di Tmalls per appunto per timbrare no perché io sapete con la precision press della We Are Memory Keepers ma quella lì non è magnetica e il foglio quando tu alzi di nuovo questa questa parte qui il foglio tende a andare un po' così per i fatti suoi e quindi ho preferito prendere una cosa magnetica più grande e insomma certo non è cioè non volevo poi spendere tantissimissimo come la Misty c'è una differenza insomma almeno di 20 euro se non mi ricordo male e quindi ho preso questa qui insomma già mi sembra un bel buon prezzo però ecco e insomma questa qui è uno strumento penso molto comodo molto comodo finiamo in bellezza con questo bellissimo e faccio uno zoom traveler travelers della prima marketing la Meliarus bello ve lo faccio vedere meglio anche perché ho la curiosità di vederlo io a tutte queste scritte in rose in foil ma scusate aspettate ma perché ve lo devo far vedere con i riflessi ancora non l'ho capito ve lo faccio vedere senza riflessi no eh la cosa che ve posso far vedere senza riflessi allora che bello io allora io non compro più né agende né traveler perché comunque le midori le faccio io e le agende a breve farò anche le agende quindi però ecco che fai come fai come fai a lasciarlo lì perché mi piace mi piace mi piacciono queste scritte mi piace questo foil rose gold mi piace c'è la chiusura non me la faccio io quasi e niente lo apriamo lo vediamo al volo dentro e a di qui di qui a di qui ma com'è mannaccia eh eh vedi questa qui non riesco vabbè a queste taschine obbligue quindi ma sono tante due quattro sei otto dieci eh quest'altra taschina quest'altra taschina poi ha due inserti inserti ma perché parlo così oggi due inserti bianchi eh non mi piacciono ma vabbè vabbè ma perché così bianchi cioè così sono troppo semplici per me eh poi però non c'è problema me li faccio questi sono un due tre quattro quattro elastici e poi eh da questa parte abbiamo la taschina fatta in questa maniera e il pen loop è proprio è bella è bella mi piace mi piace bella perché questo video è venuto lunghissimo non so neanche se devo dividerlo in due parti perché insomma non vorrei ehm annoiarvi troppo e e niente e che dire io tornerò tornerò perché vi devo far vedere il kit di Natale dai che gliela potevo far finirlo sto kit da agosto quasi che lo sto facendo ma va bene da fine agosto e tralasciando questo particolare nulla ehm tornerò ripeto da gennaio ritornerò proprio più a sito a qui su youtube perché ehm non voglio abbandonare questo canale perché comunque sento il vostro affetto e mi fa piacere continuare a fare i video e niente comunque io adesso veramente vi lascio e io ringrazio ancora Clelia per insomma per avermi accolta in questo in questo suo paradiso scrapposo vi ricordo e vi lascio giù nell'info box il link alla sua pagina facebook e niente allora io vi ringrazio per aver visto questo video se vi fa piacere ci vediamo nel prossimo e un saluto a tutti quanti voi che vi trovate dall'altra parte un saluto un saluto